ciao e benvenuti sul canale a quest'ennesimo video ascoltate un aspetta aspetta un attimo perfetto ok sei visto qualcosa avete visto qualcosa ho spoilerato ebbene sì oggi voglio parlarvi di un accessorio utilissimo a casa ma ancor più utile in camper pratico robusto e soprattutto veloce da utilizzare ve ne siete accorti roventa x touch l'aspirapolvere ideale per noi camperisti anche full timer eccolo un apparecchio devo dire comodo pratico veloce ultraleggero mezzo chilo ricaricabile come vedete e ci permette di raccogliere nell'immediato quello che cade in questo momento o addirittura per fare delle peluzie più complesse più più impegnative raccoglie tutto nel comodo contenitore mi raccomando non liquidi e ci permette di non entrare in diretto contatto con la polvere o quello che è il suo contenuto sì una volta quando ho comprato roventa x touch sono andata a casa e l'ho usato aspirando dei liquidi poi siccome si era rovinato subito non funzionava più l'ho riportato all'assistenza dicendo non funziona ma non mi hanno creduto e non me l'hanno sostituito ho dovuto ricomprarne uno nuovo ecco adesso torniamo tra di noi è un po ci sono rimasto anch'io male della confessione però va bene cerchiamo di fare le cose regolari e torniamo a noi torniamo a noi a vedere questo abbiamo due due accessori uno scopa piccola aspiratore piccolo con morbidi pelucetti mantenetevi un attimino i termini e non sono proprio tecnico e questo un po più lungo per raggiungere le insenature particolari la base di ricarica allora la possibilità di ricarica sono due cioè o ricaricarlo con la base con la sua base che è questa qui naturalmente posizionando le maniera corretta non come capita ogni tanto al contrario ma facendo combaciare questi con i punti di ricarica oppure con la ricarica diretta all'apparecchio in questo caso quindi io non ho la possibilità di appoggiarlo sulla base perché lo voglio ricaricare direttamente lo attacco direttamente questo è l'aspiratore forza aspiratoria poi la vedremo dopo all'interno il contenitore che raccoglie lo sporco o quello che il filtro eccezionale e vi assicuro che raccoglie e ferma un fracco di roba perché io ci ho aspirato l'ho utilizzato e vi devo dire che sono rimasto più volte investito quando lo aprivo dalla polvere che si annida all'interno del filtro questo è il filtro questo è il controfiltro o questo contro filtro questo il filtro chi lo sa comunque fate voi inseriti uno nell'altro montati e rimontato eccezionale ma volete vedere come funziona eccoci al momento che tanto aspettavate ma porca misera non funziona c'è sempre qualcosa ma cavoli era in carica sta succede a tutti succede a tutti se il cavo di carica è collegato all'apparecchio l'apparecchio non funziona magari perché rimanete attaccati alla presa e quindi rischiate di romperlo magari no magari perché chi lo sa staccate sempre la spina gettatela dove volete a questo punto l'apparecchio funziona eccoci pronti per la prova pratica sì ma cosa aspiro non c'è niente grazie per la prova pratica abbiamo del sale no il sale porta male scusi abbiamo qualcos'altro meno male lo zucchero sì ho capito in bustine e poi sono anche diabetico non lo posso usare lo zucchero qualcos'altro di più interessa abbiamo del caffè rigorosamente decaffeinato così non ci fa neanche male lo stendiamo appoggiamo il caffè lì e utilizzeremo una delle spazzole diciamo che la spazzola questa col pelucino come l'abbiamo definita prima è più che altro per i tessuti le cose le cose non va bene utilizziamo la spazzola lunga questa qui che ci piace tanto che la colleghiamo la presa non è attaccata quindi dovrebbe funzionare dovrebbe deve funzionare mamma che aria che vi fa anche i capelli oddio ma ditemi voi ditemi voi la forza aspiratoria ed incredibile dove è andato il caffè dentro qui ma non lo potete più utilizzare per fare il caffè ricordatevi ma eccezionale eccezionale un apparecchio ma cosa dico eccezionale favoloso vi vedete vi vedete ebbe certo vi ho parlato di un apparecchio di dimensioni molto ridotte e per forza non sono riuscito a nascondermi abbastanza dietro per concludere perché non sono un recensore professionista e quindi queste sono dei video abbastanza scherzosi che voglio fare vi invito ad acquistare anche non questo prodotto specifico ma perché ce ne sono di varie marche ma comunque di acquistare il prodotto in sé perché è utilissimo per noi camperisti full timer non full timers quello che è del video sapete cosa dovete fare ve lo dico sempre non c'è bisogno se volete aggiungere dei commenti sotto fatelo e se volete aumentare la community condividete il video va bene vi saluto e ci vediamo alla prossima anzi prossima che non è per adesso regolare ma vi stupirò presto ciao